Ben 220 kg di trippa e 80 di fagioli sono le quantità cucinate per le quattro serate che hanno inaugurato la stagione delle feste estive che si svolgono nei quartieri fanesi. A Centinarola di Fano, dall'8 all'11 giugno, si è svolta la Sagra della Trippa e dei Fagioli, un evento ormai consolidato in cui centinaia di persone hanno riassaporato e gustato le specialità culinarie ai piatti della tradizione. Grazie all'aiuto dei volontari indispensabili per la riuscita della manifestazione, da giovedì tante sono le iniziative che hanno fatto trascorrere momenti spensierati agli adulti e ai più piccoli. Noi come Viviamo Centinarola crediamo molto nella collaborazione e nell'inserimento di tutte quelle persone che al momento della festa si fanno avanti per darci una mano. La cosa bella di quest'anno è che sono venuti anche i bambini e quindi tantissimi bambini nelle settimane precedenti alla festa si sono fatti sentire, hanno telefonato perché volevano comunque collaborare e quindi stanno sparecchiando e stanno pulendo i tavoli, le sedie e quindi ci hanno dato una grossa mano e io ringrazio tutti quanti sia l'associazione ma anche i cittadini del quartiere e anche i ragazzi. Grande successo di pubblico sicuramente? Sì diciamo che abbiamo fatto la novità di quest'anno era il giovedì, il giovedì che era dedicato ai giovani è andato abbastanza bene, io sono soddisfatta nonostante potesse andare anche meglio ma diciamo è un'esperienza e quindi capisco che non l'abbiamo mai fatto quindi siamo contenti così. Venerdì è stato comunque una conferma, sabato un pochettino diciamo un po' meno rispetto al previsto dato anche dalla partita dell'Inter e quindi un po' di calo. Però oggi ci siamo rifatti, c'è il pieno, c'è tantissima gente che sta ancora aspettando di mangiare e siamo molto contenti e molto soddisfatti. Inoltre l'associazione Viviamo Centinarola organizza tutti i martedì sera dal 13 giugno al 25 luglio una serie di appuntamenti per tutte le età. Durante il mese di giugno subito dopo la festa e nel mese di luglio tutti i martedì al parco Viviamo un Falcone organizziamo delle serate gratuite per tutti i bambini dove sempre grazie alla collaborazione di varie associazioni del territorio di Fano e vengono a proporsi e quindi facciamo giocare i bambini ed è un evento gratuito e aspettiamo tutti i bambini. Per avere il programma dettagliato potete andare sulla pagina Facebook di Viviamo Centinarola e anche sulla pagina Instagram di Centinarola.